Siamo ormai usciti, mi verrebbe da dire forse definitivamente, dal Covid, quindi dall'emergenza sanitaria mondiale, ma i nostri medici, i nostri infermieri, tutto il personale sanitario sono accanto a noi tutti i giorni, quindi il fatto di ricordarli nella quotidianità dimostra un'attenzione che non si ferma mai. Un omaggio a tutti gli operatori della sanità duramente colpiti durante la pandemia. Ad Arezzo è stata così inaugurata la nuova intitolazione toponomastica largo personale sanitario a pochi passi dall'ospedale San Donato di Arezzo. La nuova intitolazione era stata approvata nel gennaio 2021 all'unanimità dal Consiglio Comunale a seguito di un atto di indirizzo presentato dai consiglieri Simon Pietro Palazzo e Mattia Delfini. Nasce sicuramente come iniziativa in virtù dell'esperienza anche drammatica fatta durante l'epidemia Covid, ma che rimarrà nel tempo a sottolineare l'impegno, la forza, la professionalità, la dedizione con la quale i nostri operatori quotidianamente garantiscono l'assistenza ai pazienti che afferiscono alle nostre strutture. È necessario però che questo riconoscimento venga poi seguito da tutto il riconoscimento delle competenze e chiaramente anche dal punto di vista economico, perché il personale sanitario in questo momento, che è comunque coluna portante del sistema sanitario, ha necessità di un personale che sia anche riconosciuto da questo punto di vista. Quindi noi saremo pronti sempre a dare queste dimostranze sui tavoli istituzionali e spero che la politica possa poi ascoltarci. A pochi passi dal largo personale sanitario prenderà forma la cittadella della salute. Stiamo portando avanti un percorso condiviso con tutti i soggetti poi dopo interessati, quindi con ASL, si parla del Pionta, quindi anche dell'università, un percorso che darà una risposta proprio in termini di nuovi immobili destinati alla sanità, una piccola cittadella della sanità che va a riqualificare quelli che sono degli spazi che da tempo erano oggetto anche di degrado e che quindi in questa maniera riusciranno a dare una risposta, sia in termini di decoro ma anche di risposta sanitaria.